Siamo arrivati a un punto in cui diventa pesante anche parlare di Samp Io faccio veramente fatica, sto ancora provando un dolore intenso dalla giornata di ieri Perché pian piano si inizia ad accettare il fatto che quest'anno è Serie B È Serie B per i motivi che adesso andiamo a vedere Un saluto a tutti gli amici del corner Sampdoriano Come al solito, prima di iniziare mettete like al video, iscrivetevi al canale se i contenuti vi piacciono Ogni mercoledì sera live su Twitch Quindi, detto questo, partiamo con l'analisi dell'ennesima sconfitta dell'Unione Calcio Sampdoria Per 2-0 contro il Lecce Lecce che sicuramente è una squadra in forma, una squadra che veniva dalla vittoria per 2-1 motore l'Atalanta Quindi sicuramente era un avversario di tutto rispetto C'era molta delusione Perché ti aspettavi qualcosa in più Vedevo gente allo stadio ieri, tanta gente positiva comunque Che cercava di dare il suo contributo alla Sampdoria Ed è un po' quello che abbiamo visto in campo Stankovic ha provato a schierare questo 3-4-1-2 Che non ha portato a grossi risultati Però ha provato ancora una volta a cambiare Che dire, una Samp che nei primi minuti ci ha provato Nel primo tempo ci ha provato L'occasione di Gabedini la più colossale Comunque una Samp che ha spinto Miracolo di Falcone Miracolo di Falcone di nuovo sull'altro Rottino di Gabedini, colpo di testa che poi era in posizione di offside È una Samp che ha spinto nel primo tempo Quanto meno ci ha provato E per questo io non posso dire niente alla squadra Se guardiamo il primo tempo Posso dire qualcosa alla squadra sul punto di vista della mentalità È una squadra che non sa reagire È una squadra senza palle È una Samp che fa eternamente fatica a gestire il pallone L'abbiamo visto nel secondo tempo Questo è un video che durerà molto poco Ma perché di cose da dire ce ne sono poche Nel senso che è una Samp che non riesce a mantenere il possesso Non riesce a rendersi pericolosa È una Samp che è prevedibile È lenta È una squadra prevedibile, lenta È la Serie B Sono le stesse cose che vi diciamo da settimane Ma le cose da dire sono queste Il Lecce è una squadra molto pericolosa È una squadra che ha dei velocisti Di giocatori di qualità Lo stesso Colombo Che ha siglato il gol dell'1-0 Al termine del primo tempo È un giocatore che a me piace molto E ne sentiremo parlare di lui Attacca a me nella profondità E arriva questo grandissimo assist Da parte di Villar Uno dei peggiori in campo Ci si aspettava una grande prestazione da lui ieri Era l'uomo che doveva fare da filtro L'ha fatto in maniera pessima Davvero bocciato Villar Ieri Ci aspettavamo Una crescita esponenziale Di un Villar Che aveva iniziato male E si stava riprendendo Ieri Ha fatto una prestazione davvero pessima A mio parere Così come il pacchetto difensivo Davvero Amione Insufficiente Berzinski Insufficiente È una Samp ragazzi Che Non si salva nessuno In poche parole L'unico che si salva Per quanto riguarda Il mio pensiero È il capitano Che ci ha messo la faccia Che piange sotto la gradinata Quello È capire cos'è la Sampdoria La figura di Fabio Cagliarale Che piange Ti fa rendere conto Di quello che è successo Del dolore Che c'è in generale Dell'atmosfera Dell'ambiente In cui vive la Sampdoria Nel secondo tempo Penso la Samp Peggiora degli ultimi vent'anni Perché È una Samp Che Se nel primo tempo Qualcosina ha creato In tempo zero Ragazzi Zero 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 Nulla più totale Una Samp Che Esce Gioca Nella metà campo Del Lecce Ma Non riesce mai A trovare L'uomo La giocata giusta Per Sfondare Le lidie Del Lecce Il Lecce è una squadra Molto compatta È una squadra Che secondo me Farà un bel campionato È una squadra Appunto Compatta Se non ci riesci Con i passaggi Prova qualche lancio lungo Proviamo qualche movimento Zero Niente Gabidini A parte quei due Quei Quei due Quei due tiri Non ha fatto niente Di che Così come Montevago Che però Io vorrei ancora rivedere È un giocatore Che secondo me Ha da dire La sua Due ritici insufficiente Ieri non mi è piaciuto Poi C'è poco altro Da dire Cioè nel senso Abbiamo visto Poi nel secondo tempo Due ripartenze Cura del tiro Di Askinson Che Si è mostrato Il solito giocatore Ha fatto un tiro Che probabilmente Un ragazzo Un bambino Di dieci anni Riesce A tirare Con più Con più forza E poi il gol Il gol Di questo Bamba Che è un giocatore Interessante Veloce Attacca la profondità Quello che volete Bruno Amione Che cazzo fai Non mi ricordo Se era l'azione Quella lì O L'azione Appunto Del tiro di Askinson Mi sembra Che fosse quella Le gol Amione si fa prendere In giro Da Tutto rispetto Bamba È la fotografia Della Sampdoria C'è poco da dire Uno stadio Che fino al novantesimo Ha cantato Anzi Fino all'ottantacinquesimo Ha cantato L'ottantacinquesimo Poi Ha cantato Ma si è anche girato La grandinata a sud Ha voltato alle spalle Secondo me In maniera molto giusta Continuando a cantare Perché I giocatori ormai Non si meritano neanche Quello che Stiamo facendo Perché Stiamo A livello di tifo Stiamo superando Dei livelli incredibili Ragazzi Ieri Uno stadio davvero bellissimo Smetterò me di dirlo Perciò Non ci meritiamo Per niente Quello che è successo Dopo aver fotografato Per meno la partita Anche se Per me è difficile Ripeto Visto che È un trauma Che non ho ancora Passato Andiamo a vedere Quello che potrà succedere Stankovic Ci dovrebbe essere Un incontro Tra Stankovic E la società Stankovic Che non mi è sembrato Non ha dato Dei segnali Molto positivi È un Stankovic Secondo me Mollo Che si è pentito Di aver scelto Di aver provato A far Salvare la Sampdoria Secondo me Verrà esonerato Per scelta sua È impensabile Quello che potrà succedere Adesso Perché da una parte C'è chi dice Ranieri Ma Per prendere Ranieri Deve avere i soldi E Ranieri Fino a un mese E' fatto E' detto di no Quindi Spuntano i vari Semplici I vari Iacchini Qua puoi mettere Anche Conte Il problema È la mentalità Della squadra È una squadra Che deve ritrovare Unione Deve ritrovare Autostima E questo Secondo me È un lavoro Che deve fare Chi c'è da un po' Nel senso L'Anna Deve farlo capire Quali Arana Deve farlo capire Ci sono delle figure Che secondo me Possono trasmettere La Sampdorianità E devono farlo Perché in momenti Come questi Si può uscire Da momenti come questi Solo in questo modo Poi Ripeto C'è poco da dire Contestazione giustissima È un momento Veramente Brutto 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 È uscito un tweet Di Silvio In cui Ha detto Stiamo arrivando Io Questo di Silvio Come sapete Nelle live L'abbiamo detto e ridetto Io non mi fido di lui Spero di sbagliarmi Ma io non mi fido di lui Spero che domani arrivi Con 200 milioni E con Altani Ma io Di lui Non mi fido Quindi Come al solito Che ci rimette Siamo noi Ora due mesi Per lavorare Per ritrovare unione E ci va anche di culo Che ci sono questi due mesi di pausa Quindi Cerchiamo Di mantenere L'unione Che c'è sempre Con Trandistinto Cerchiamo di stare vicini Alla squadra Anche in momenti come questi Adesso deve giocare Ancora lo Spezia Che adesso è a quota 10 Se dovesse vincere Sarebbe a quota 13 E deve anche giocare al Verona Quindi Ripeto Per me La Serie B È evidente Però Come al solito Spero di sbagliarvi Dunque Vi ricordiamo I nostri social Instagram Corner Lascia like al video Se ti è piaciuto Iscriviti al canale Mercoledì sera Live Su Twitch Da Matteo è tutto Da Corner è tutto Sempre Forza Santa